Il primo scoglio è stato superato, Silvio Alessio ormai è rimasto da solo al timone dell'Acragas e è riuscita a risolvere la questione legata al pagamento degli stipendi entro il termine di lunedì. Pen ulteriore penalizzazione da scontare in questo campionato. L'intervento di Alessio è stato decisivo soprattutto nel coinvolgere l'imprenditore originario di Ribera e leader delle sale cinematografiche grigentine Massimo Lupo. Grazie al loro impegno economico è stata coperta la somma di circa 160.000 euro tra i monte, ingaggio più basso tra i professionisti che tirano comunque un sospiro di sollievo. Dopo una prima fase in cui tutto sembrava andare a vele spiegate, la trattativa tra il duo Alessi Giavarini e il manager Italo Svizzero Roberto Nava sembrava aver subito una brusca frenata. Tra le opzioni presentate sul tavolo, tra l'attuale seppur a zoppata proprietà, quella di Nava sembrava essere ancora la più credibile. Dopo il flop di Nucilli, personaggio alquanto discutibile considerando i trascorsi, è apparso un altro tipo. Si chiama Alessio Sundas, un imprenditore di Pistoia, noto per aver partecipato al Maurizio Costanzo Show, dicendo di aver baciato 350 ragazze. Sundas ha anche partecipato a diversi provini nel mondo della televisione, tra la fattoria e il grande fratello, passando per uomini e donne. Un curriculum che non rispecchia del tutto le esigenze di un club che ha necessità di liquidità e solidarietà. L'Akragas in questa settimana è il turno di riposo. La squadra avrà la possibilità di concentrarsi per la prossima partita che la vedrà impegnata contro il Matera di Gaetano Auteri il 23 dicembre al neutro di Siracusa. È vero che quest'anno non ci sono le trascensioni dirette e che le ultime quattro classificate si sfideranno nei famosi play-out. Escendono in serie di soltanto due squadre, ma è altrettanto vero che questa formula è prevista qualora lo scarto dell'ultima classificata non sia inferiore di otto punti con la quart'ultima. I biancazzurri, in virtù di questo ragionamento, necessitano un cambiamento netto di rotta.